Yuki a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi finalmente dopo un mese scusate ma siamo qui insieme ad erens con un nuovo episodio del market watch a questo giro ragazzi per parlare di tutto quello che è successo durante l'ultimo mese perché ovviamente manca e quindi dobbiamo un attimo un po recuperare quello che è successo e ovviamente parleremo anche di quello che è successo nell'ultima settimana ovviamente però ragazzi prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da Fantasia Store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di Lodd Reprinda ragazzi ce l'hanno in pre vendita prendetelo so che non ho sculato nel video anteprima però è un'emozione incredibile potete bustare una ultimate o l'onesto ghost quindi se volete avere questa opportunità rispetto a quella che io non ho avuto acquistatelo in più se volete un piccolo sconto ragazzi refera link e coce sconto sempre qua sotto stessa cosa ragazzi per Jamstor il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di roba coreana e giapponese di One Piece o ovviamente di Yugi poi hanno Sleeve hanno carte della Bandai cioè hanno tanta roba interessante quindi anche per quello refera link e coce sconto sempre qua sotto in più se volete liberarvi carte di Yugi Magic Pokemon e One Piece trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è roba interessante se ne può parlare detto questo iniziamo subito mamma mia ragazzi quanta roba ci siamo persi ovviamente sono abbastanza aggiornato su quello che è successo però un attimo andiamolo a vedere insieme allora in primis abbiamo la maganera de metallo boh nel senso c'è sta non c'è sta non è la prima che fanno e sinceramente butta quanto due trecento euro su sta roba non me va poi oh ragazzi fatemi sapere voi se l'acquisterete però potevano fare qualcosa di un pochino di più visto che è una semplice boh Konami smette di buttare i soldi che ti diamo e fai qualche prodotto decente anche per noi come fai in Giappone grazie beh tipo la collection di numeri poteva essere interessante adesso quella non l'avremo mai voglio di sta roba si si su quello sono abbastanza d'accordo ma vabbè andiamo avanti abbiamo visto anche il trailerino così Konami è contenta e andiamo su allora altre robe interessanti ragazzi sono a parte la nuova espansione che uscirà il 5 dicembre questa credo sia sai quell'espansione con ovviamente le carte collector oh si 7 carte per pacchetto si oh a me questa sembra la regina dei cuori eh potrebbe uscire qualcosa interessante il resto boh nel senso non c'è qualcosa che mi attira veramente forse hanno anche esploderato qualche carta non me ne frega niente si si non me ne frega assolutamente niente e andiamo avanti andiamo sulle robe cicciotte ecco questo è quello che interessa a me quello è il rescue rabbit quello è il rescue cat quello è il rescue porco spino Konami perché hai voluto non importa che cazzo di animale è non è questo il problema allora il problema di fondo di questa cosa è che tu non mi puoi fare questo rescue cat e poi mi fai il rescue rabbit più bello della vita che non è ovviamente questo io Konami dico io mi affiderei alla stessa azienda che fa i peluche per pokemon perché diciamo che loro ne capiscono un pochino di più di peluche rispetto all'uccici perché questi non sono peluche belli questi sono aborti bisogna dirlo nel senso sono sono veramente brutti poi se mi capita sotto mano a un prezzo accettabile nel senso che costa 15 euro può essere lo prendo così tanto per avercelo però parliamoci chiaro cioè se avessi un figlio e lo regalassi a lui cioè morirebbe di paura non mi sembra una cosa molto molto giusta da fare cioè fai tanto per avere un figlio cioè e poi te lo uccidi con un peluche di yugi ma vabbè andiamo alle cose un pochino più interessanti che interessano a tutto l'ambito competitivo ovvero i team ma non andremo a vedere le carte spoilerate ragazzi perché tanto tutto quello che abbiamo detto nel vecchio market watch si sta realizzando hanno annunciato sp hanno annunciato la strega di abelstar wanted e tanta altra roba che stava in agov e poi anche in altri set andiamo a vedere quelle che possono essere no quelle che possono essere quelle che saranno le nuove carte che staranno all'interno di questo prodotto e che alcune sono da seguire a due mani eh ve la butto lì eh allora abbiamo l'alternativa art di spolverino e l'arpia che è carino con la lega arpia poi il rei jackie adesso scopriamo che rei jackie è praticamente il raggio di slifer dettoria io lo ricorderei sempre eh slifer dettoria e poi vabbè il drago tridente e l'alternativa art del mago nero sì il mago nero sarebbe bello della maga nera e del drago nero occhi rossi che sono praticamente le due carte esclusive che si possono trovare all'interno della quarter century pride e unity che uscivano in giappone lì ovviamente quelle carte costano tipo quanto il doppio del mio stipendio qua le avremo all'interno del tin e costeranno 6 euro perché non se le inculerà nessuno io ovviamente quale voglio quella giapponese io ovviamente penso che farò la collezione anche di quelle uscite dal 2022 fino adesso giusto per avere delle alternative art di yugi no no non puoi perché le prime escono da gold sono un po' una merda quelle non no cazzo me l'hai ricordato ti odio eh che poi di base konami ha fatto apparire intorno al box una carta che cioè una delle carte che sarà all'interno di questo set in versione quarter century e quale può essere? oh ragazzi pensate un secondo è un drago furivo no anche è un drago è bianco l'hanno stuprato in 60.000 versioni differenti ovvero sì ragazzi il drago bianco occhi blu versione originale eh ragazzi tanto lo sapevamo che lo sappiamo che ci buttano anche il mago nero ovviamente qua dentro perché tanto sì il mago nero ma con l'alternativ art no l'alternativ art che stava in probabilmente con del mazzo mettono no quello del mazzo già esiste metteranno l'altro davvero esiste quello del mazzo? sì l'anno scorso ma non era promo adidas quello a fare no quella è una cosa la promo adidas è una roba però esiste versione quarter century erens ma te che cazzo di lavoro fai? vendi carte? oppure stai a casa a fare le seghine? ti seguo sulle carte io boh nel senso non mi sembra una presa in giro nei confronti delle persone che lavorano veramente cioè dai vabbè oltre questo ragazzi konami ha annunciato svariate statuine di yuki dio mio so tante so troppe non so non saprei dove metterle però c'è roba che veramente spinge abbiamo shien che vabbè ok dopo ve lo farò vedere sopra perché è anche a colori poi abbiamo ovviamente mascherena mago nero del caos bella che è incredibile guardate che bella poi queste sono tutte grigie immaginatevi quando prendono i colori vabbè zeus vabbè la guidatura ragazzi questa la metti la metti lì la metti qua poi stai così inizia a fare così più o meno eh tanto ha tutto quello che effettivamente un giocatore di yuki vuole ovvero le calzarete e i capelli rossi e quindi mi controlli un attimo quanti sono 23.100 yen per capire effettivamente se continuerò a guardare questa statuina sul computer o potrò averla qua perché va bene va bene adesso guardo sì 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 no perché io sono alquanto preoccupato poi vabbè abbiamo amabi e abbiamo zeus vabbè cagari per tutta quell'altra parte di fanbase che inizierà a fare così tutto il giorno stessa cosa ragazzi poi vabbè abbiamo kisil l'altra evil twin non 142 euro probabilmente continuerò a guardarla sui siti porno e basta poi vabbè abbiamo vabbè come vi ho detto le evil twin e non nell'alternative art a zoze però ok boh per tutte quelle persone a cui piacciono le lol abbiamo anche ash blossom io ovviamente è discosto comunque per tornare al prima no il mago nero non l'hanno stampato in versione originale quello del mazzo di yugi lo starter deck di yugi a quel cazzi mago nero esiste nella versione del team dell'anno scorso se provi a dir un'altra cazzata del genere vengo a casa tua e te c'è meno e con quel mago nero ok non lo trovo corta e sento poi abbiamo anche la figure di shizu quante se che mi sono attirato pure su questa poi abbiamo anche jack atlas non hanno fatto yusei hanno fatto il polvere e l'arciano del rago rosso ma penso che piano piano annunceranno tutto shien che bello visto a colori penso sia la più bella cioè con tutta l'armatura che brilla dana che figo che sto a fare vabbè ha anche questo almeno 100 euro poi abbiamo il cyber drago yugi e vabbè oh le ultimate schifo di loddelt reprint no non capisci niente nel senso hanno la stampa moderna che cazzo vuoi non potevano farlo uguale vuoi che le tue ricariche solare ultimate vecchie si svalutino perché l'hanno fatto uguale non ce ne ho però in america il retro pack 1 col vecchio dagli auto e tutto quanto lo fanno oh non cagare il cazzo in america fanno come gli pare vanno per strada e si sparano cioè è anarchia quel paese è inutile tenerlo in considerazione dai su poi vabbè abbiamo carino il play map dell'ics japan con i fiendishmith ovviamente hanno messo la zozza davanti perché fa un po' cagare perché sono due png attaccati l'un l'altro non ci hanno neanche provato a fare il play map ma vabbè guarda che bello oh le sleeve però sono veramente fighe le sleeve si e poi vabbè hanno fatto anche le sleeve dei 6 samurai con lo shen nuovo e poi prossimo ordine da baghi si abbiamo alcune carte annunciate all'interno dei teen in versione prismatic secret penso quarters no no è la secret dei teen quasi abbiamo quem che ci sta e poi anche boh il neos wingman perché non ha una stampa da nano quindi vogliono dargli importanza un po' così eh nel senso va bene tutti i fan di hero saranno contenti yuki hero sarà molto contento e si farà le seghine su questo dai su detto questo adesso cosa c'è ad alto yuki hero a caso si tanto è l'unico giocatore di hero che effettivamente gioca solo hero dalla mattina alla sera che conosco senso non posso dire eh ma ma lo sai che bastardo gioca hero non gioca hero tutto il giorno bastardo sta morendo bastardo se devo fare una battuta su tutte le le red bull che si beve posso farla sulle energy drink no red bull su hero non posso ma vabbè andiamo avanti andiamo avanti andiamo a vedere il set più interessante di quest'anno ovvero info perché attualmente anche post europeo i prezzi di alcune carte sono cambiati i prezzi di una carta è cambiata drasticamente potevo prenderla 30 non l'ho presa perché non avevo soldi adesso non ho ancora soldi non la prenderò ma sta a 45 cad secondo voi qual è? il finito max c? forse andiamo a vedere allora allora ragazzi i prezzi si sono abbastanza assestati diciamo chi è salito chi è sceso però comunque il set rimane un set molto interessante partiamo ovviamente da la chase card ovvero demone fabbro incisore questa carta partiva da 95 euro da noi ovviamente non è vero stavo mentendo ha avuto venduti così alti attualmente si è abbassata forse anche per il semplice fatto che l'europeo è stato vinto da tempai che costa 100 euro così lo ricordo ah aspettate ma ritual beast ritual beast in finale e poi il mazzo che costa 1000 euro non c'era in finale comunque è sceso attualmente i primi playset vediamo dall'Italia perché comunque comprarli dall'estero vi costa tanto si aggira sugli 80 85 euro comunque da come vedete ha avuto un drop ha avuto anche un paio di vendite un pochino più alte però nel senso niente di fantascientifico altra carta che vorrei andare a controllare con voi di questo set è il drago dell'orgoglio e dell'anima questa questa tipologia di carte prima col mago adesso col drago sono praticamente le carte promo da collezione di questo set il mago era partito molto alto all'inizio poi ha avuto un drop con i 4 successivi perché comunque gli altri non avevano niente in più del primo tranne lo sfondo differente e quindi da carta da 150 siamo passati a carte da 50 forse anche qualcosina meno questo è già partito male già partito come carta da 70 figuriamoci agli altri gli altri sarà totalmente un disastro carte da 30 euro che la gente le prende o e te le lancia stiamo parlando poi della lingua italiana se tiriamo su qualcosa di tedesco mi sa che te dicono pia cioè laura e 20 oh no per la prima tedesca sta a 80 danno valore alle carte da collezione tedeschi rispetto a noi che viviamo solo per le carte che si gioca così un attimo e non sono inferno sì nel senso ma questa è tutta un'altra storia ragazzi allora andiamo avanti vediamo cos'altro abbiamo allora abbiamo vi ricordate allora vi ricordate multifascinante purulia sì è carta da 26 euro che nessuno si cagava perché no ma quello nuovo è un pochino più forte non la vedo benissimo come carta vi ricordo la finale dell'europeo la finale dell'europeo l'ultima partita è partito questo e poi è partita anche un'altra ht di cui non ricordo il nome no non me la ricordo comunque c'era lui e ha dato un più importante in mano al giocatore italiano che si è portato a casa il premio e ha creato un problema all'interno del mercato di yugi ovvero ha trasformato una carta da 29 euro a una carta da 43 primo playset da Germania non lo voglio primo playset dall'italia penso sia 45-47 euro sì 45 euro è una carta bellissima mi piace molto anche proprio a livello di artwork l'idea il concept mi grava non averli presi perché comunque era insetto sì dai prendili perché potrebbero essere interessanti sì vabbè però non c'ho un euro ti capisco e forse prenderla potrebbe essere interessante ma nessuno poteva sapere che questa carta avrebbe ribaltato totalmente il metagioco sì no il metagioco la finale dell'europeo comunque per un secondo ho visto nella mia mente la carta l'altra carta che ha tirato insieme a questa l'italiano poi l'ho dimenticata è stata una cosa molto veloce ho detto cazzo eccola qual era e poi l'ho dimenticata di nuovo poi andiamo avanti e vediamo una carta interessante ovvero una carta whitewoods ma cosa è successo a questa questa carta stava sui 20 euro adesso playset sta a 28 inglese forse italiano qualcosina di più ma a lei e alla sorella ovviamente cioè nel senso cosa è successo a lei e la sorella quale magico fattore è apparso all'interno del mondo di Yugi che ha prodotto un aumento del prezzo di questa carta di queste due carte Joshua Smith no pensavo Jonathan vabbè Joshua Smith ha deciso di portare questo mazzo con i runic se non ricordo male o dico una cazzata vabbè comunque questo mazzo all'europeo ha fatto pure top dimostrando che non è solo bellino non è pieno di loli ma è anche interessante da poter giocare e quindi ovviamente non è specato come tante altre carte perché se vinceva questa carta non la compravi più neanche vendendo casa però comunque ha prodotto un incremento di entrambe le carte siamo contenti? no comunque no mi sono sbagliato era questa quella che ho venduto a 20 e che adesso playset sta a 25 l'altra non so quanto stava stava già di più rispetto a questa hanno avuto leggeramente entrambe ma stavo per prendere il playset di entrambe rispettivamente a 23 e 25 l'1 ma tu mi hai detto no non serve un cazzo quella roba no io non mi prendo queste responsabilità poi abbiamo il coniglio coniglio che stava 8 euro è salito a 12 in motivi ignoti non so è un din carino quanto sta quarter century quarter century quanto la tua anima no perché ci sono io sicuramente a un prezzo follissimo qualche parte erence carstore 70 euro un po' così eh erence capisco che vuoi rubare i soldi alle persone però non ho neanche mai guardato dopo che l'ho caricato la prima eh vabbè capita e niente penso che di info le cose più interessanti siano queste non so se c'è qualcos'altro il tempai ma ho visto che stava tipo sui 7 euro e la situazione non è assolutamente cambiata credo poi si si non è to no è uguale e basta diciamo di base la situazione è quella che è anche questa molto molto simile a quelli che sono i prezzi di vendita e basta ci sono dentro anche le carte Mimigool e poi c'è anche qualche cartina Mimigool che è salita cioè qualche carta che si gioca in Mimigool che è salita ma ne vogliamo veramente parlare? no Erens ne vuoi parlare te? ma allora le carte Mimigool sono salite la spell e il mostro basta ok no ma c'è una carta che è salita per Mimigool una carta che ha 15 anni la tiriamo fuori ah ho capito lo stregone di fuoco tocca per forza tiriamo fuori lo stregone di fuoco stregone di fuoco adesso vedremo con dei prezzi senza senso nuovamente si vediamo quanto riusciamo a farci 2 euro e 50 all'1 in italiano li ho venduti in inglese stanno a 10 vabbè nel senso in italiano li trovi monocopie da venditori alquanto discutibili perché l'aspezione non tracciata non è disponibile a 1 euro e 50 se no proviamo a vedere l'inglese così tanto per no questo è sempre italiano perché sono spastico e vediamoci l'inglese oh non c'è dall'Italia no è che probabilmente hai messo lingua italiana come filtro interessante 8 euro 8 euro inglese e si vende fino a 7 pulito soldi facili soldi gratis andiamo adesso avanti con l'ultima cosa che si divide in molte carte di un archetipo che attualmente è leggermente anche un po' di più leggermente salito perché ha avuto supporti annunciati nel nuovo set ovvero rota e di cosa stiamo parlando proprio di lui di mermail mermail ragazzi mazzo che effettivamente non ha reprint da un po' di tempo visto che abir è uscito un po' di anni fa abir bosch e tutte queste menate qua e che di base ha avuto una ristampa nei megateen oppure una ristampa in un battle of legend e stiamo parlando di abisteus nel pratico poi ovviamente è caduto nel dimenticatoio io probabilmente all'interno delle scatole col bike ho tipo il 60 per di tutto infatti dovrò fare una cernita di tutto quello che c'è perché finirà tutto sul market e vediamo effettivamente a quanto stanno e quanti soldi ci si possono fare sopra su questa roba partiamo da abisteus ragazzi questa carta stava a 2 centesimi no a 2 centesimi no ma a 30 centesimi si attualmente a venduti che arrivano fino a 1 euro e 80 in versione secret ovviamente volevo prenderla in allora mi era capitato un 15 per lo volevo prendere perché ho detto ma si esplode il formato con Mermail e allora ho detto no non è non è il momento e quindi io dando letta che cazzo dici io ti ho detto che atta è una cosa sensata se te che non avevi soldi no adesso non mi dare le colpe di tutto perché non non mi prendo io Mermail lo voglio comprare da sempre mi ho detto sempre tu no no che cazzo ragazzi a chi date letta a io a me che gestisco il canale o a Erens che fa la voce fuori campo cioè capiamo comunque dovete dare letta a Erens che sta aiutando Cappello a mantenere sto canale e l'ha aiutato in una vita e mezzo o a lui che vende carte Yugi forse da 2 anni da quando è uscito One Piece ma di cosa stiamo parlando che te faccio le scarpe io gioco da una vita mi sono visto tutti i formati e tu eh no ma 15 anni non gioco perché non c'ho voglia dai su perché mi piaceva la figa scusa eh visto in questo momento storico che la figa non c'è diciamo che forse aver continuato a giocare a figurine è servito a qualcosa ma vabbè allora abbiamo questa Bisteus che è un po' salito poi vediamo le sue altre versioni quelle più interessanti lo scopriamo subito abbiamo la sua versione da Shiva quindi ha 2 reprint sono molto triste vabbè non capisco perché Bisteus ha avuto più reprint degli altri e gli altri totalmente dimenticati vabbè abbiamo anche la versione ultra da pack che non ha un playset Eren tu hai un bel playset di Bisteus ultra NM ho venduto un playset a ultimate sostanzialmente a quanto? allora dovrei averne ancora uno playset da tipo boh 20 euro gli altri li ho venduti lp a 25 l'uno vediamo quanti soldi hai rubato quanti soldi ho perso allora ho perso dei soldi partiamo dal pool perché ci può stare no vabbè vabbè è in linea però ero sul giusto dai NM angoli usurati 20 euro che significa non è NM comunque è una carta da 40 euro carta che prima stava a 15 euro ho comprato tempo dietro perché così ero in quel trick di foglia di acquisti pazzi Abyssosfera hai fatto molto bene sì ma se si parla di tipo due anni fa pagata 6 euro l'uno ah beh forse non hai fatto molto bene beh so NM in italiano a chi dovete seguire ragazzi a me o a Erens che fa le cose 25 euro l'uno pagate 6 euro perché ho detto ma Abyssosfera è bella come carta 25 euro tu l'hai predictato da due anni cazzo che bello quanto sei forte penso da tagliarmi i coglioni due anni secondo me è anche qualcosina di più ma vabbè no fammo due però anche qualcosina in più potrebbe essere andiamo avanti allora abbiamo un'altra carta che settimana no scorsa due settimane fa stava a un euro godo neftabis godo 50 ce ne avrò nel bulk guardate sto grafico oh oh i soldi ragazzi i soldi tiratele tirateli fuori dai vostri bulk ste robe che tocca buttare tutto sul market andiamo avanti tiè guarda anche i dragoni atlantici comuni questi no questi sono super quanto sta sì sì vuoi un playset 4 euro l'uno allora li metterò a 7 dalla grecia e dalla spagna vuoi un playset dall'italia in italiano non lo vuoi non c'è non c'è prendo i primi 3 che non sono nm forse se prendo non credo ragazzi secondo me fino qua non ce n'è una nm dovete andare da 5 euro in su per la roba messa bene come volete voi però hey capita andiamo avanti vediamo un'altra rarità simpatica ragazzi 10 anni fa potevo prenderlo da un tipo che conoscevo a 5 euro non glielo ho preso perché non mi andava di buttare 5 euro su quella roba poi mi dava anche a 5 euro catastro ultimamente non voglio sapere effettivamente neanche quanto sta catastro però è bello come una carta che non ci inculavamo di pezza adesso costa più del mazzo che gioco vabbè vabbè carino andiamo adesso a fanteria questo è comune interessante vuoi un playset di fanteria comune erenz nm ce ne ho un bel po' di fanterie comuni buttate in giro beh se hai un playset puoi chiedere 4 euro l'una faccerò cazzo erenz è morto dopo questa notizia con venduti fino a 5 euro e 23 cazzo mi sono pentito di aver venduto le mie lp super rare a 4 euro l'uno allora poi mi adesso stavo a 70 euro playset ita 10 euro l'uno guarda è molto più onesto il prezzo della super rispetto a quello della comune che è solo il doppio quindi di base poi vediamo anche abbiamo anche cecchino cecchino playset italiano bello pulito ti interessa 20 euro 4 euro e ce n'è uno altri 12 euro di cecchino vediamo in versione ultimate oh te dirò cecchino ultimate è più onesto di quello comune c'è un 55 e un playset a 70 si prende il playset a 70 si ributta 150 intanto sono l'unico playset sul market cioè mi sembra mi sembra abbastanza scontato cazzo giusto eh 450 euro di playset metto holy playset eh sì certo che poi questo nm meno un po' mi disturba non so cioè cosa identificano loro per nm meno quando di base le carte da astral pack tipo escono ex quindi l'nm meno è il puntino bianco che voi cacate il cazzo quando in realtà l'nm non è senza una carta perfetta però vabbè mint nm per scimmia che non sa usare il pollice opponibile è difficile andiamo adesso ai mermail perché prima abbiamo visto tutta la roba dragoni atlantici abisgaios 23 euro 25 30 39 39 42 55 ho venduto uno good a 20 21 mi fa male eh sì good in prima ultimate inglese poi neanche in italiano quindi so che pur in prima ultimate in prima inglese vediamo good eh sì era un bel good era un bel good sì era un bel good 20 euro è in inglese in prima eh attento attento mi son fatto un meno beh capita non ti fustigare dai su abbiamo bislinde aspetta vabbè bislinde ultra rara pochino costosa cioè praticamente stanno facendo salire tutte le carte perché tanto boh diciamo se gioca questa non lo so è mermail sì sì yes yes fuck e quindi facciamo salire tutto anche questa è salita primo play set inglese vuoi un play set italiano anche qua erens te lo meriti no non voglio il play set no no non lo voglio tranquillo non esiste ce ne stanno tre sul market vabbè capita e poi abbiamo la versione ultimate yes 35 non c'è un play set ultimate venduti fino a 15 no 24 25 bello dai andiamo avanti erens riusciremo a montare mermail max rarity adesso non credo beh non credo più lo volevo fare prima mi sono preso giù e adesso beh possiamo partire da cose più economiche tipo gunde gunde super 5 euro su luna sì lo so quelle le ho vendute ok gunde rara play set italiano non esiste probabilmente oh 2 euro no 2 euro american 2.50 pulito dai poi abbiamo anche spike spike è 99 centesimi 2.50 3 4 10 25 25 in inglese erens dammo subito sono senza parole in inghilterra a prenderci tutti gli spike che troviamo sono senza parole io hello my king can I come to England to buy some cards sentiamo la zia se se ce fa l'ordine all'america sì direi che è arrivato il momento onesto e poi come ultima carta ragazzi non c'è niente perché ho deciso di controllare abysgaios di nuovo perché ok la versione ultimate ma quella ultra 15 euro puliti puliti eh nm ah sai cosa che ci manca abistrite abistrite è elixis abistrite che sicuramente non costa tanto non costa proprio niente pulita 8 euro dai 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 volete vedere l'inglese ragazzi perché vi piace e farvi male costa un po' di più bene ma c'è anche il link che è salito che c'ho un dubbio come si chiama il link il link dei mermail non lo so mi trovo impreparato sui link eh una volta puoi insultarmi ragazzi erens non studia come si fa bisogna fare una colletta no questo link non costa niente vediamo se c'è un altro link non me lo ricordo sa che non c'è oh abismegalo oh por abismegalo ce lo siamo dimenticato e anche abisbalena ti immagino abisbalena tipo 50 euro 100 100 euro di abisbalena ti accolli così eh c'è da sciva però c'è da sciva e poi c'è sigret vediamo eh no però c'è le americani belli e poi oh andiamo a vedere qua no lui è l'unico che è rimasto a 2 euro ragazzi volete una ultimate per mail che non costa poco che non costa tanto lui rispetto per lui acquistatelo così facciamo salire anche questa carta e guadagno anche su queste li facciamo sparire tutti guardate guardate ragazzi stai lavando le mani gruppo telegram per fare far sparire tutti gli abisbalen e fare i soldi esatto e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento se qualcuno vuole 50 euro per Mermail Max Rarity se volete la mia offerta ce l'avete per tutto il resto poi faccio le valutazioni normali ma Mermail Max Rarity 50 euro e siamo tutti contenti detto questo ovviamente ragazzi vi invito ovviamente a lasciare like commentare iscrivervi e noi ragazzi ci vediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti